Inktober 2016 Challenge 27esima giornata, Creepy Creepy sta per raccapricciante o anche inquietante quindi ho cercato di fare un volto con un sorriso un po' creepy ci ho provato almeno questa volta ho ripreso anche lo sketch a matita perché sono riuscita a piazzare il cellulare per filmare in modo fermo almeno ballerino almeno non vi viene il mal di mare quindi ho fatto lo sketch a matita e poi ho ripassato le linee con il water brush e con il pennello giapponese iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.